Ciao, sono William e mi occupo di investimenti immobiliari dal 2012. Ho creato questo canale al fine di condividere con te tutto quello che riguarda il mio settore. Quindi sono partito completamente da zero, non avevo competenze, non avevo capitali e a un certo punto ho cominciato a far vedere agli altri come facevo determinate cose, quindi come facevo la ristrutturazione, come facevo delle operazioni di trading immobiliare, come facevo magari una compravendita, acquistavo un determinato prezzo, poi vendevo un prezzo più alto, come facevo le aste e tutta una serie di cose. Quindi nel mio canale troverai tutta una serie di informazioni riguardo il settore immobiliare visto dagli occhi di un immobiliarista, da una persona che è sul campo tutti i giorni, da una persona che fa decine di operazioni ogni anno. Che cosa devi fare per guardare queste cose? semplicemente devi iscriverti al mio canale, attivare la campanella così ti arrivano le notifiche, fammi sapere poi nei commenti che cosa ne pensi riguardo i video che sto caricando, fammi sapere che cosa ti può interessare, quali sono gli argomenti che potrebbero magari piacerti, condividi se hai piacere di farlo con altre persone, ti aspetto nei video.